Sono molto soddisfatto questa sera qui a Giaveno, ma anche questa sera come nelle altre feste in Tiero Prenti e Monte si è vista di nuovo una lega viva, una lega vivace, una solita lega vera, i militanti sono ripartiti veramente a prova tutto e io sono sempre più soddisfatto e orgoglioso di appartenere a questo movimento che si chiama Lega Nord-Piemonte. Io Piemonte tra l'altro con il nostro governatore Cota abbiamo delle difficoltà enormi, soprattutto per il debito enorme che ci ha lasciato la giunta Brenti con cinque anni di governo della sinistra, noi dobbiamo far fronte a questi debiti che ci abbiamo realizzato e ai tagli che arrivano da questo governo di tecnici, di professoroni, noi andiamo avanti lo stesso con la serietà che ci contraddittive, guidati da Roberto Cota, dai nocchi assessori e continuiamo a lavorare, continuiamo a lavorare per dare risposte ai piemontesi e ripeto anche un momento difficile come questo di oggi. Viva la lega via Piemonte! Viva la lega via Piemonte! Grazie.